Le leggendarie pillole della conoscenza Roma, un tempo ne aveva almeno una dozzina oggi ne rimane solo una, interamente rivestita in marmo bianco fu creduta per secoli la tomba di uno dei due mitici fondatori di Roma Remo, piramide di Gaio, Cestio e Pulone vuoi saperne di più? Link in sovraimpressione